Direttore Mieli, quale giudizio è prevarso sulla figura di Gabriele D'Annunzio come uomo politico? D'Annunzio per molti anni è stato visto attraverso degli stereotipi, praticamente come se fosse stato il più importante, cioè era il più importante intellettuale dell'Italia del primo novecento, ma la sua immagine fu schiacciata su quella di Mussolini. Solo recentemente si è capito meglio, a cominciare dagli studi di Renzo e Felice, per poi proseguire con quelli di Giordano Bruno Guerri, che invece sono due immagini distinte, quelle di D'Annunzio e di Mussolini, anzi in alcuni periodi fra i due ci fu anche un conflitto. Si è parlato molto in questi giorni della Carta del Carnaro, che tipo di documento è stato? Fu una Costituzione fra le più moderne e aperte del mondo, è rimasta un modello per tutto il novecento, e per molti versi è migliore per apertura mentale anche della stessa Costituzione italiana.